Dopo lo stoppo dovuto alla pandemia dal 1 luglio riprendono gli sfratti. Si riparte con l'esecuzione di quelli emessi prima del 28 febbraio 2020, mentre quelli scattati durante la pandemia verranno sbloccati in due tranche al 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2021. In prefettura a Treviso, dopo la costituzione del tavolo permanente sull'emergenza abitativa, la linea indicata dal prefetto Maria Rosaria Laganà è di assoluto rigore. Dall'analisi dei dati sappiamo che molto spesso capita che si aspettano i tempi dell'illascio forzoso con l'intervento della forza pubblica un po' senza darsi da fare per cercare magari di trovare una situazione alternativa, anche quando ci sarebbero le condizioni e soprattutto quando si sa già che non ci sono le condizioni per un intervento pubblico. L'ufficio del governo sta dialogando con il Tribunale con l'ufficio notifica esecuzione della Corte d'Appello di Venezia per farsi trovare pronto la data del 1 luglio con interventi mirati. Serve acquisire, spiega Laganà, tutti i dati anche per tutelare i piccoli proprietari. C'è il grosso problema anche dei piccoli proprietari che hanno visto fermi per molto tempo gli sfratti, quindi le procedure, e non incassano appunto il canone che spesso è una integrazione di un reddito dovuto alla pensione piuttosto che a un reddito di lavoro. Questo modus operandi potrebbe diventare la base di partenza per un protocollo vero e proprio sull'emergenza abitativa che coinvolga tutti gli attori, forze dell'ordine e servizi sociali dei comuni. Dati che abbiamo sotto il capoluogo quello che soffre più alcuni comuni della cintura intorno a Treviso, quindi sicuramente non è un problema gravissimo ma proprio perché non lo diventi è bene approntare delle soluzioni, approfondire comunque il problema nella consapevolezza, come si diceva, che purtroppo il patrimonio delle case pubbliche a disposizione è limitato.